Non c'è solo la riforma costituzionale e la campagna per il SIA al referendum confermativo del 4 dicembre nell'agenda del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luca Lotti. Il braccio destro del Premier Renzi questa mattina a Terramo ha incontrato il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, per discutere la situazione delle scuole e della loro messa in sicurezza, anche a seguito del sisma dello scorso 24 agosto, e dei fiumi con la priorità disinquinamento. Lotti ha anche incontrato una platea di imprenditori e rappresentanti nel mondo produttivo terramano e regionale, con i quali è stato affrontato il tema della manovra economico-finanziaria appena impostata dal Governo e di come Roma e l'Aquila, assieme, possano dare una mano alla ripresa economica regionale. Quando è un'occasione nella quale ci si confronta è sempre un'occasione positiva. Ripeto, ne parleremo, ascolteremo. La politica ogni tanto deve anche ascoltare. Noi siamo qui anche per ascoltare, ci confronteremo e cercheremo di capire come possiamo dare una mano. Come Governo e come Regione Abruzzo. Abbiamo già firmato con il Presidente un patto istituzionale che prende degli impegni reciproci. Se ci sono altre cose sul tavolo ne discuteremo insieme a lui. Come abbiamo fatto per il patto con la Regione Abruzzo, faremo per le nuove situazioni che il Presidente vorrà porci. Come detto con il Presidente D'Alfonso si è discusso di scuole e fiumi, ma anche di tutta la partita aperta dal Governo sulla riqualificazione delle periferie. Entrare all'interno del dossier periferie, finanziamenti per la riqualificazione delle periferie dell'Abruzzo. C'è un piano che Renzi ha messo in campo e l'Abruzzo merita di starci. Su questi tre problemi parlerò a più riprese con Lotti, che rappresenta l'agenda, gli argomenti che pervengono a successo. Perché lui riesce a fare questo? Perché sta sul pezzo 24 ore al giorno. Io pensavo di essere un lavoratore, ma paragonandomi alle ore di lavoro di Lotti, francamente sono quasi un gaudente. Grazie a tutti.